In questa puntata voglio farvi un rapido aggiornamento per quanto riguarda la situazione su Bitcoin e sulle cripto in generale perché oggi Bitcoin è tornato sui livelli di prezzo che non si vedevano da praticamente un mese siamo tornati sui 72 mila dollari quindi siamo sopra i vecchi massimi storici del 2021 Ethereum oggi fa una candela abbastanza importante anche se ovviamente è presto per dire inversioni di trend Ethereum BTC perché comunque rimaniamo in una situazione debole Ethereum BTC bene questa candela di oggi vediamo se potrebbe aprire le porte per un'inversione di trend ne parleremo comunque nel corso di questa puntata perché dico questo perché ragazzi come vi ho condiviso oggi all'interno del mio gruppo Telegram completamente gratuito Tartolo trovate il link qui sotto nella descrizione di questo video l'Halving di Bitcoin è tra circa 10 giorni voi siete pronti? io sono molto pronto e come discuto quotidianamente all'interno della Tana Tartaruga che tra l'altro vi invito ad unirvi all'interno della Tana Tartaruga se volete iniziare ad investire sulle cripto in maniera seria l'Halving è un evento che avrà un impatto molto importante sul mercato e io credo che sarà quell'evento che poi toglierà la narrativa da Bitcoin e la sposterà sulle alt quindi io credo che basta con questo Bitcoin nel senso ottimo tutto però la narrativa se Bitcoin vuole andare su quindi andiamo sui 75-80 mila dollari dopo l'Halving ecco che secondo me questo evento potrebbe dare una mano per spostare la narrativa che in questo momento è centrica su Bitcoin sulle altcoin e quindi potrebbe dar inizio e potrebbe dare il via a una possibile altseason ovviamente non è che questo capiterà così dopo l'Halving di Bitcoin ma magari questo è un evento che potrebbe ovviamente andare a velocizzare le cose e togliere un po' tutta quella attenzione che in questo momento sul mercato cripto si concentra unicamente su Bitcoin e lo vediamo anche semplicemente guardando il prezzo di Bitcoin e guardando il prezzo di Ethereum guardate ragazzi il prezzo di Ethereum è ai livelli del 15 marzo ok? 16 marzo guardate il prezzo di Bitcoin è ai livelli del 13-14 marzo e infatti se andiamo a vedere Ethereum BTC ora viene che abbiamo recuperato questa candela ma le alt non hanno forza le alt non hanno forza in prezzo di Bitcoin le alt fanno fatica e Bitcoin in questo momento è generalmente ovviamente vado a generalizzare lo so che non è così però messo meglio guardate Bitcoin è praticamente sopra i massimi storici dalla vecchia Burran ok? guardate tipo Ethereum è ancora decisamente sotto i vecchi massimi storici e anche sotto questi massimi fatti il 12-13 marzo quindi capite bene come Ethereum in questo momento è debole ma Ethereum poi va alla fine a rispecchiare la situazione sull'Halcoin in questo momento per cui prima di iniziare con questa puntata vi ricordo comunque di mettere un mi piace a questo video una puntata veloce, breve, ricca di aggiornamenti cercherò di essere il più rapido possibile quindi un mi piace se ti piace questa puntata se apprezzi anche questi aggiornamenti super rapidi iscriviti al canale se non sei ancora iscritto ti ricordo di unirti anche all'interno della Tana Tartaluga trovi il link qui sotto nella descrizione per sapere di più su questa community mia privata e infine ti ricordo che qui sotto troverai in descrizione anche tutti i link agli exchange che io consiglio di utilizzare per fare operazioni con le cripto per cui non sono consigli finanziari non sono un consulente finanziario fate sempre le vostre cerche per mettere a rischio il vostro capitale dentro dei mercati finanziari bitcoin 71.800 dollari allora i 71.000 dollari sono una zona molto importante come ci siamo detti nelle scorse puntate io poi non vi ho fatto tanti aggiornamenti sul prezzo di bitcoin perché ragazzi io sinceramente non sono dell'idea di uno che fa un video ogni giorno sul prezzo di bitcoin quando il prezzo di bitcoin è sugli stessi livelli da 4 settimane non ha senso ok va a finire che poi il contenuto non è di qualità sempre le stesse cose io questo non voglio farlo per cui 71.800 dollari bene che abbiamo superato zona 71.000 dollari come sapete secondo me il livello più importante sono i 68.500 68.500 che hanno fatto ancora da spartiacque come momentum bearish e bullish vedete qui una volta roti i 68.500 siamo andati addirittura sui 64.000 dollari poi bene che abbiamo recuperato recuperati i 68.500 siamo andati sopra i 71.000 dollari in questo momento è importante rimanere sopra i 71.000 dollari per mantenere questo status di bullish sul breve termine altrimenti se perdiamo forza significherebbe continuare allora questo range ancora un po' con i 68.500 che poi iniziano a diventare meno rilevanti ok per cui è importante se vogliamo vedere bitcoin salire 75.000-80.000 dollari che il prezzo tenga questo livello dei 71.000 dollari che ci sia forza ok questo è importante tra l'altro SP500 bene che non ha fatto grandi danni in questo momento è importante anche che ovviamente il mercato azionario non faccia degli scivoloni in questa fase di mercato per cui bitcoin 71.000 dollari teniamo questo livello e siamo bullish sotto questo livello c'è ancora della speranza ma bisogna star sopra i 68.500 ritornando di nuovo sotto i 68.500 si continua con questo range che da un certo punto di vista è bene perché io l'ho scritto qua anche all'interno del mio gruppo quello dedicato più alla parte operativa sempre gratuito questi sono tutti gruppi gratuiti dove io condivido ogni tanto delle informazioni poi se volete sempre qualcosa in più c'è la Tana però vi ho scritto bitcoin è sui stessi prezzi da ormai 4 settimane e i turisti iniziano già ad andarsene perché annoiati e stufi di questa situazione cioè ma voi immaginate immaginate di Ralfede di due anni fa quando bitcoin era 30.000 dollari quando bitcoin un anno e mezzo fa era 20.000 dollari 15.000 dollari le persone si annoieranno con bitcoin a 70.000-65.000 dollari e non ce la faranno più perché sono stanchi non riescono ad aspettare due giorni perché abituati ovviamente a scrollare il telefonino sui tiktok da 5 secondi non ce la fanno non ce la fanno è una soglia dell'attenzione quindi è una soglia anche di investimento bassissima andiamo subito a fare operazioni se no non ce la fanno ragazzi 4 settimane un periodo così è grandissimo è bellissimo perché come vi ho spiegato nelle scorse puntate è importante che il prezzo vada a riaccumulare energie per una successiva leg up guardate cosa è successo quando è stato approvato l'etf spot ora poi questa notizia si è rivelata leggermente un self news sul breve per poi comunque recuperare però guardate cosa ha fatto range è andato con la notizia dell'etf spot a fare un nuovo massimo poi lasciamo stare che qui è leggermente scese e ritornato nel range potrebbe succedere questa volta non ne ho più valida idea però comunque guardate come in ogni caso poi è andato su la salita ha continuato ok quindi che scenda o non scenda dopo l'halving ragazzi è positivo è positivo il fatto che bitcoin abbia lateralizzato per un mese ok abbiamo visto anche che questo è successo in tutta la bull run che ci siano stati dei periodi in cui il prezzo abbia ricaricato le forze e questo è importante è stupendo è bellissimo e serve davvero tanto quindi molto bene in realtà sono felice della situazione che si è creata su bitcoin infatti per chi è diventata una tartaruga sa che qualche giorno fa sono andato a sfruttare un'opportunità sul mercato per andare appunto a espormi su delle altcoin che ho aggiunto nel mio report dell'altcoin arriverà anche l'aggiornamento per quanto riguarda il report dell'altcoin su delle posizioni che appunto non avevo sono andato ad aggiungere queste posizioni perché secondo me era abbastanza interessante su quali cripto non sto qui a parlarne ci sono le opportune risorse quindi entrate all'interno della tana se volete sapere di più parliamo dunque ora di altcoin ovviamente ragazzi bitcoin fa tutto cioè bitcoin segna la strada questo mi sembra scontato però in questo momento la narrativa rimane bitcoin centrica per quello che dico magari dopo un halving di bitcoin l'attenzione e le cose che possono essere spede su bitcoin iniziano ad essere di meno perché l'halving ho mai fatto quindi non c'è più la speculazione su quello che potrebbe succedere dopo l'halving ma è l'halving andato ok basta l'etf spot si ok però ormai cioè l'etf spot è successo a gennaio ci sono ancora grandi flussi però magari potrebbe aprirsi una narrativa su un etf spot su ethereum se bitcoin magari va 80.000 dollari il sentimento inizia sempre a essere più positivo ok magari potrebbe aprirsi una narrativa su un etf spot su ethereum il che porterebbe ovviamente anche un po' di aria fresca per le altcoin e quindi un recupero delle alti in prezzo di bitcoin per poi sfociare in una altseason ovviamente non sono io a ricordarvelo già sicuramente lo saprete se mi ascolterete da un bel po' ragazzi quando le alt faranno quelle 3-6 settimane di pure euforia vuol dire che la borranna è terminata per cui vediamo bitcoin fino a quando fino a quanto vuole spingersi ok la dominance la sapete secondo me ormai è arrivata non dico a capolinea però cioè il suo l'ha fatto settimana quella che si è appena conclusa quindi domeni ieri si è conclusa la settimana precedente ha chiuso con la candela più alta di tutte la chiusura settimanale però siamo ancora a 54% da ottobre come sapete io credo che ormai anche dopo l'alving la narrativa vada a spostarsi sulle alte come è sempre successo in passato ovviamente passato non può essere un chiaro indicatore del futuro però guardate dopo l'alving e dopo degli ATH la dominance è andata sempre quindi io personalmente credo che anche questa volta dopo l'alving di bitcoin dato che i massimi storici li abbiamo già fatti la dominance possa scendere e dare spazio alle alte con magari appunto la narrativa che va a spostarsi sulle alte perché l'alving è ormai stato già fatto perché uno dice i rendimenti ormai su bitcoin sono stati già fatti uno dice preferisco andare a investire sulle alte perché voglio fare il 500% in due settimane su bitcoin non posso farlo ok non dico che sulle alte sia possibile farlo perché se tu pensi che sia possibile farla questa tipo di performance ecco no è impossibile e perderei più soldi però ragazzi è giusto che accada così ok i soldi si spostano sul mercato da chi è più bravo a gestirli a chi è meno bravo a gestirli per cui Ethereum bene che ha recuperato forza siamo ancora però distanti nel senso vediamo come va a chiudersi poi questa settimana sarebbe bello recuperare già innanzitutto questo livello qui degli 0.051 dove attualmente e andare verso l'alto quindi andare a spingersi al di sopra di questo livello secondo me ciò sarebbe quello che poi cambierebbe le carte per Ethereum e che porterebbe il prezzo verso livelli più alti per cui superare zona 0.051 riportarsi in questo box qui e poi ovviamente spaccare i 0.056 e andare in 0.06 quella zona lì e andare verso l'alto ragazzi spaccare tutto questo secondo me è quello che deve accadere su Ethereum se vogliamo vedere un po' di forza perciò ragazzi questa è praticamente la situazione attuale sulle sulle crypto non ho altre cose da aggiungervi se non che rimango comunque positivo sul medio termine per questa bull run come sapete non credo che la bull run sia finita oggi non credo che la bull run sia finita ieri non credo che la bull run possa durare ancora 5 anni che i pezzi di bitcoin salgano ininterrottamente però siamo in una fase intermedia avanzata non siamo in una fase conclusiva però pensate a questo cioè comprare bitcoin ora comunque non è come comprare bitcoin quando era 20.000 dollari siamo già in una fase abbastanza in cui siamo attivamente a tutti gli effetti dentro una bull run quindi non siamo agli inizi non siamo alla fine non abbiamo fatto ancora l'apice vediamo se bitcoin vuole spaccare zona questa qui dei 72.000 dollari ok 71 72.000 dollari riportarsi al di sopra magari andare in zona 80.000 dollari 85.000 90 va a fare il suo top va a fare la sua salita si tranquillizza un attimo lascia spazio alle alte al dominos che scende e questo secondo me è quello più importante poi ciao è finita tutta è finita tutta la salita se continuiamo se bitcoin non intende rallentare con rallentare dico 1-2 mesi di rosso cioè proprio in cui bitcoin non so tipo torna a 50.000 dollari ad esempio se questo non accade allora vi aspetto un top dalla bull run come già sapete come già vi ho spiegato praticamente nel nel video di qualche giorno fa che era tra l'altro un estratto breve all'interno della della tartaruga questo video qua che vi consiglio di vedere un estratto live dalla tartaruga bitcoin crollerà dopo l'alving io vi ho detto che secondo me se bitcoin non va a rallentare non va a perdere un po' di forza sul breve di momentum sul breve va a fare i top di questo ciclo già nel 2024 ciao ragazzi e alla prossima